L'emergenza del coronavirus sta mettendo veramente a dura prova la resistenza del nostro sistema sociale e produttivo. Questo è vero ed è veramente duro da sopportare ma dobbiamo assolutamente cercare di resistere con coraggio a questa prova cercando tutti insieme in mille modi le soluzioni per poter ripartire non appena sarà possibile. A questo proposito nei giorni scorsi subito dopo l'annuncio del premier Conte l'11 marzo che decretava la chiusura degli esercizi commerciali diversi da quelli alimentari edicole farmacie e poco altro la nostra amministrazione ha deciso quindi di dare immediatamente un segnale per far sentire ai commercianti la nostra presenza la nostra vicinanza in un momento così difficile. Abbiamo quindi deciso di esentare dalla Tari tassa rifiuti tutti quei negozi bar ristoranti che hanno dovuto chiudere. In particolare i commercianti almesini interessati dal decreto saranno esentati dal pagamento della quota della tassa rifiuti per i mesi di effettiva chiusura dell'esercizio. Allegato alla loro bolletta i commercianti troveranno le istruzioni per chiedere rimborso della quota della tassa relativa al periodo di inattività. Il commerciante richiedente in regola con i pagamenti degli anni precedenti dovrà quindi presentare l'apposita domanda su un modulo predisposto dal comune in cui indicherà il periodo di chiusura dell'esercizio. Oltretutto appena capito quanti aiuti e quali aiuti potranno arrivare ancora dallo stato alla categoria non escludiamo di ampliare l'esenzione o di mettere in piedi altre iniziative altre misure a sostegno del commercio locale sempre nei limiti ovviamente della sostenibilità del bilancio. È vero comunque che col decreto dal presidente del consiglio dei ministri è consentito ai comuni utilizzare gli avanzi liberi per le spese correnti rese indispensabili dall'emergenza coronavirus e qui ci stiamo in pieno. Come dicevo è un primo provvedimento che vogliamo prendere per dare un segnale concreto di attenzione alla situazione difficile che il commercio sta vivendo. Siamo vicini a chi dovuto forzatamente sospendere la propria attività per tutelare di fatto la salute pubblica di tutti noi e che hanno dovuto chiudere quei negozi per cui hanno fatto enormi sacrifici e anche magari rischiare di compromettere l'attività per cui hanno lavorato una vita intera. Mentre affrontiamo questo difficile momento contingente dobbiamo anche considerare le conseguenze a medio e lungo termine che tutto ciò produrrà sulle attività produttive in generale, sul commercio e per quanto riguarda questo tema e calmerarne il più possibile gli effetti negativi. L'importanza dei negozi di prossimità nel rendere vivo il tessuto sociale del nostro paese così come anche le quartiere delle grandi città si comprende ancor di più in questi giorni, questi giorni quando sono rimasti proprio i nostri negozianti in prima linea lavorando tutto il giorno insieme ai loro dipendenti per assicurare a tutti noi in particolar modo i generi alimentari, i farmaci e i generi di prima necessità e a loro va assolutamente il nostro ringraziamento. Proprio quel commercio che ha resistito in questi anni ad una politica di espansione della grande distribuzione al commercio online ora è quello che ci salva nell'emergenza. Spero veramente che dopo tutto questo male ce ne ricorderemo e che tutti quanti si guardi alla vita del paese, all'importanza del commercio di prossimità con altri occhi e considerazione. Buon lavoro a tutti!